Andiamo ad affrontare l'esercizio 2, quindi familiarizzare con le tarsine. Il discorso è simile a quello di prima, soltanto che adesso abbiamo a che fare con le lettere dalla Q alla X, quindi abbiamo delle tarsine e andiamo a disporre le nostre ottave di tarsina sull'1, sul 2, sul 3, eccetera, in tutte le posizioni. Anche qua posso segnarmi la velocità, quindi esercizio 1, suona sul giro armonico ogni pattern da Q a X dicendo a voce alta CID, quindi parto già quello con la voce, mentre nell'altro lo facevo prima senza, ma è uguale, tanto l'esercizio te lo fai tu, ti puoi segnare poi la tua velocità e la tua velocità limite. Proviamo a partire, io ho messo 100 di velocità, quindi attenzione, la suddivisione poi è tarnaria. partiamo con il Q che è sul primo, giro armonico, Do, Mi, Bemole, La, Bemole, Sol. 1, 2, 3, 4. Cid, 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 cid. Chinn, 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 chin, chin, chin Chi, 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 chi... Chien, 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 ch Chin, 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 chin